Dopo la sconfitta contro l'Agropoli, la battipagliese di mister Mario Pietropinto torna in campo domenica al Passana contro il Faiano alle ore 14.30. Un derby valevole per la non aggiornata di eccellenza, che di certo richiamerà tantissimi sportivi e tifosi per una gara che si preannuncia appassionante. Le zebrette di certo non possono fare passi falsi e devono conquistare i tre punti per restare agganciati al treno playoff. Invece il Faiano è a caccia di un risultato positivo per lasciare la zona calda dei playoff.